Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video ho visto che non siete arrivati a 5 like non è un bel straguardo eh però se non siete arrivati comunque ho visto che siete arrivati solo a 2 like questo vuol dire che non vi piace il mio canale vabbè però poi farò vedere un bel tipo di versi tipo Lion, Fangs e tutti gli altri oggi dei Monsterflex sono venuti allora scusate se allungo la mano ma sono qui su quindi devo prendere oppure che cadono così potete vedere poi abbiamo il boia ragazzi guardate qui com'è bello il boia si allunga tantissimo ed è bellissimo beh oggi non so a chi se devo fare un traguardo per ora per ora sempre a 5 like voglio vedere il primo o poi ci dovrete arrivare no? e poi allora 10 like, 15 like e tutta via tutta via però perché poi gli iscritti crescono però vuol dire che uno non ha messo però se io ho due iscritti e i like dell'altra volta erano 3 quindi questo qui intendo è il palombarro fantasma e gli altri erano 3 vuol dire che uno che ha messo mi piace non è iscritto al mio canale ma perché non ti iscritti? guarda se non ti iscritti vieni a casa no questo qui non respira perché vieni a casa il boia e ti ammazza cioè viene questo a casa tua e ti ammazza capito? quindi se non vuoi vuoi vedere il boia dentro la casa tua e ucciderti devi venire qui quindi ti consiglio di venire poi se vuoi morire decidi il palombarro fantasma poi ecco sempre guarda qua e per ultimo questo mio è come palline da ping pong e per ultimo abbiamo il come si chiama? ah già il pirata pioforo a me piacciono tantissimo quindi sono super felice di avere quello di averlo c'è pugno gangam in azione ascia gangam in azione chi sa queste mosse deve 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 lasciare like a questo video chi lo sa e mi sono sottoscigliato la mano forse ora capisco perché nessuno mi si iscrive oh mi sono liberato e per questo di essere liberato non dovete fare niente perché il gioco è troppo buono troppo buono vedete il robot ok oggi devo salutare a che devo salutare mi devo fare una lista l'ho detto pure ieri ma non mi ricordo mai allora devo salutare a Osvaldo poi devo anche salutare a Harry e infine devo salutare a chi a chi a chi a chi devo salutare ah già giusto devo salutare a Carola e noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao